Da quando è scoppiata la pandemia stanno lavorando senza sosta, con lo scopo di alleggerire soprattutto il peso che questo momento difficile sta facendo gravare sulle persone sole, su quelle bisognose, anche di beni che apparentemente sembrano i più semplici. Sono i volontari delle tante associazioni che hanno aderito al record la rete coronavirus a domicilio attivata dalla protezione civile regionale. Le chiamate arrivano a Campochiaro e ai comuni con questi due organismi che si rivolgono alle organizzazioni no profit e tra quelle che sono operative a Campobasso c'è l'unità mobile di soccorso Molise, circa 20 operatori che si occupano di consegnare alimenti, farmaci, bombole d'ossigeno e che vanno personalmente a fare la spesa perché è impossibilitato anche a raggiungere il superiore. Il presidente, Candido Delisio, ha da poco attivato una raccolta fondi per consentire l'acquisto di materiali di protezione per i volontari. Siamo coordinati sia dalla direttrice che dall'ufficio di volontariato di protezione civile in fase di operazione quindi su tutto il territorio, c'è questa rete di associazioni di volontariato che hanno aderito e questo servizio è dedicato anche alle persone, ai nuclei familiari che sono in restrizione sanitaria per il covid. Quali esigenze avete registrato da parte delle persone? Questa è una bella domanda. Prima di tutto la gente che è chiusa in casa, lo auguriamo che sia ancora così per un po' di tempo, quindi dovremo stringere ancora i denti, va in cerca anche di semplici contatti. Noi abbiamo riscontrato su alcuni paesini della provincia di Campobasso dove ci troviamo di fronte a anziani a volte che vivono da soli in campagna e che si emozionano vedendoci. E' un'emozione anche per noi poter essere utili in questa circostanza. Non solo perché l'unità mobile di soccorso ha aderito alla spesa sospesa, iniziativa promossa da varie organizzazioni e privati e sposata anche dal CSV, il centro di servizio per il volontariato del Molise. Questa è stata un'iniziativa del CSV Molise, che è il centro di volontariato che raccorda tutte le associazioni del Molise e siamo stati contattati. Quindi abbiamo risposto subito a questa iniziativa, che è la spesa sospesa. Come ti dicevo prima, proprio ieri abbiamo ritirato i primi alimenti in alcuni centri di vendita di Campobasso, beni di prima necessità, tipo scatolame, mozzarella, yogurt per alcuni anziani e già sono stati consegnati. E la risposta è stata grande, è stata molto efficace e speriamo di riuscire a continuare questo discorso, però sempre con un criterio gestito sia dal CSV che dalla nostra associazione, in quanto poi non vorremmo mai vedere che dei beni vengano accumulati o che vadano a male perché non vengono recapitati. Grazie. 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 Grazie.